Ciao ragazze, nuovo video Avon oggi dove vi volevo parlare delle novità che sono uscite in questo catalogo qua che è il catalogo di Campaglio 4 come vedete la modella in copertina porta un costume quindi si prevede che questo catalogo qui parli dei nuovi solari allora io vi voglio far vedere questo catalogo perché io appena l'ho aperto me ne sono innamorata subito allora già dalla copertina del catalogo come potete vedere vediamo una borsa e una stuoia che possiamo avere solamente entrambi i prodotti 5 euro andando ad acquistare 4 prodotti di Avon Sun da pagina 5 a pagina 11 ecco l'offerta mentre acquistando solamente due prodotti possiamo avere a soli 3 euro la stuoia eccola qua non so se riuscite a vederla bene allora ve la descrivo la borsa da amare ci dice una borsa da amare in PVC con manici rose e decorazioni floreali la misura sono altezza 39,5 la lunghezza 48,5 mentre l'altezza del manico sono 24 cm il prezzo in catalogo senza l'offerta sarebbe di 16,90 euro la stuoia da spiagli è una stuoia pieghevole con un design floreale che riprende il design della borsa e misura 76,40 il valore della stuoia è di 12,90 euro a prezzo catalogo normale la stuoia c'è da dire che si ripiega a borsetta e quindi sarebbe molto facile da trasportare ed è impermeabile allora ecco qua vi faccio rivedere l'offerta qua vedete la borsa e la stuoia piccola allora aprendo il catalogo ecco le novità allora la prima novità che troviamo è questo spettacolare bikini leopardato che lo troviamo qui ma poi i codici per l'acquisto e la vendita sono a pagina adesso ve lo scrivo sono ecco a pagina 14 ecco qua allora dove è possibile acquistare il costume in doppio pezzo in diverse misure il reggiseno è acquistabile in taglia sml ed è un prezzo in offerta di 10,90 euro anziché di 15,90 euro mentre gli slip dei bikini anche questo si possono acquistare in taglia sml ed è un prezzo di 9,90 euro il costume ci dice ci dice le bretelle del reggiseno sono più spesse con un maggior supporto eccolo qua poi nella pagina accanto nella pagina 15 troviamo invece un costume intero modellante modellante allora vi leggo un po' la descrizione che ci dice il primo costume da bagno modellante di Avon costume da bagno body illusion costume da bagno nero con taglio classimo con coppe preformate e sostenitive fascia elastica interna inserto in rete sull'addome con funzione modellante spalline regolabili e c'è la descrizione della composizione il prezzo in offerta in questo catalogo è di 24,90 euro anziché di 32,90 euro c'è da dire che se hanno un reggiseno modellabile scusatemi un costume modellabile è adatto alle persone anche con le taglie più morbide infatti va dalla taglia M alla taglia XXL allora qua dal disegno che potete vedere eccolo qua ci può vedere appunto dove sono i punti modellabili quindi qua sul seno qua sui fianchi e qua sulla pancia quindi diciamo le novità dei costume sono queste anzi devo dire che io li ho visti dal vivo all'incontro Avon e questi costume sono entrambi carissimi altra novità che io vi dico spettacolare è questo qua allora come potete vedere è un vestito lungo intero però in due versioni c'è un vestito da double face dove da una parte è leopardato mentre da una parte il costume è totalmente nero intero allora qui ci dice un vestito due look facile da andostare disponibile nel dettaglio dalla S alla XL allora l'escrizione ci dice abito lungo reversibile 2 in 1 a soli 16,90 euro acquistando per 15 euro da questo catalogo quindi per 15 euro da questo catalogo si intende da pagina 2 fino a pagina 212 che è la copertina finale che poi vi farò vedere anche abito reversibile che può essere indossato in tinta unita nera o con stampa animalier disponibile dalla pagina scusatemi dalla taglia S alla taglia XL al prezzo di 16,90 euro acquistando per 15 euro altrimenti il prezzo è di 35,90 euro allora qua vedete nel catalogo ci fa vedere le due versioni sulla modella dove da una parte è nera e da una parte è animalier qua ci sono i tipi di stampa e ci dice anche che è possibile abbinarlo vedete al bikini in quanto è in stampa animalier anche il bikini l'abito ve lo faccio rivedere è questo che è magnifico eccolo qua scusate se mi vedete spuntare la testa ma siccome non vedo bene sennò cosa vi inquadro allora quindi diciamo le novità principali di abbigliamento sono questi c'è da dire che c'è anche un costume da uomo in bermuda che è questo qua tolgo la mano da qua scusate che è questo qua che nel colore è blu e celeste ci dice design floreale super trendy per questi fantastici bermuda da bagno per lui costume da bagno uomo bermuda con stampa floreale poi per finire la donna c'è un cattano copricostume nel colore è un bellissimo colore corallo secondo me eccolo qua qui la modella lo indossa sopra il costume intero che è a un prezzo di 15,90 euro cattano annodato anteriormente con arricciature questo è disponibile dagli a taglia M alla taglia XL poi queste sono le novità dell'abbigliamento quindi ora non vado molto avanti perché insomma mi sembra che le spiegazioni sono molto facili poi sul blog sia sul mio blog che vi ricordo è Beauty Secret che sulla mia pagina Avon che vi ricordo è Avon Francesca Pizza Trattino Pistoia troverete tutte le foto delle novità le sto già mettendo e devo dire che stanno molto piacendo allora partiamo dai solari allora i solari in solari quest'anno diciamo vi faccio vedere un po' le novità di solari allora la prima novità è questa la linea Avon Sun ha creato una nuova linea una nuova linea antietà e per pelli sensibili allora iniziamo a dire questo allora quelle antietà sono queste che le troviamo a pagina 5 di catalogo e sono allora partendo da qua riuscite a vederle allora partendo da qua sono una crema antietà per il viso fattore di protezione 30 al prezzo di 8,90 50 ml ed è questa qua poi abbiamo questa bella grande che è una crema solari antietà a protezione 50 per il corpo che è 150 ml mentre abbiamo questa qua che è una novità quindi è uscita quest'anno questa qua piccolina riuscite a vederla questa qua piccolina che è crema per pelli sensibili crema solari antietà fattore di protezione 50 per il viso per la pelle sensibile ad un prezzo di 7,90 euro quindi questa è la linea antietà poi girando girando pagina quindi a pagina 6 troviamo a pagina 6 a pagina 7 troviamo le protezioni per il viso le protezioni scusatemi per il corpo e il viso di media bassa protezione allora eccole qua allora vi faccio vedere questa è la prima pagina e questa è la seconda pagina dove mi ci soffermerò un pochino di più perché queste sono novità di quest'anno allora qui abbiamo con cacao lozione solare idratante fattore di protezione 10 150 ml a 8,90 euro poi abbiamo 8 ore di idratazione spray solare idratante F15 per pelli sensibili 150 ml a 8,90 euro poi abbiamo uno spray in colore ad asciugatura rapida fattore di protezione 20 150 ml quindi come potete vedere la confezione è la stessa cambia solamente che uno è il fattore di protezione 15 15 eccolo qua e uno è il fattore di protezione 20 eccolo qua per finire abbiamo crema solare idratante per pelli sensibili protezione 25 che è questa qua di lato quindi anche praticamente anche queste due che vediamo sono uguali solamente che uno è il fattore di protezione 10 eccole qua è un fattore di protezione 25 poi a pagina 7 abbiamo per una tintarella rapida in tutta sicurezza sono due spray ah no allora il primo è uno spray solare di atrante fattore 15 ultra resistente all'acqua mentre l'altro è l'ozione solare di atrante fattore di protezione 30 ultra resistente all'acqua qui ci dice addirittura super abbronzatura quindi io questi due essendo novità non li ho mai provati vi giuro che quest'anno li acquisterò perché soprattutto questo qua mi ispira tantissimo e poi vi farò sapere vi farò sapere soprattutto la profumazione la morbidezza sulla pelle se effettivamente resiste all'acqua oppure no allora andando avanti troviamo ecco qua le protezioni i solari ad alta protezione sono questi qua allora abbiamo crema opacizzante minerali per il viso fattore 30 per pelli sensibili 50 ml viene 7,90 euro questo ci dice che attenua l'effetto lucido poi abbiamo formula leggera crema solare di atrante per il viso fattore di protezione 30 7,90 euro anche questa qui quindi allora anche qui i barattolini sono uguali vedete la confezione il packaging è lo stesso il prezzo è lo stesso cambia solamente che una attenua l'effetto lucido e una è una formula leggera poi una cosa fenomenale che io adoro è questo mini stick qua che vedete per il viso questo qui è un duo viso crema per il viso anti-effetto lucido con fattore di protezione 20 e uno stick solare a protezione 30 quindi vedete eccolo qua allora qui abbiamo nella parte superiore praticamente la cremina da dare sul viso mentre qui abbiamo uno stick che io vado ad applicare sulle labbra o sul naso o sul contorno occhi praticamente le parti più delicate lo possiamo andare ad applicare anche per esempio se abbiamo una cistina un neo un quale per esempio qua un neo qua che non voglio che per esempio voglio una maggior protezione vado ad applicare lo stick poi abbiamo crema solare idratante fattore protezione 50 per pelli sensibili è un bel boccetto da 150 ml e costa 9,90 euro infine abbiamo un doposole spray scusatemi qua mi scrivano doposole ma ci deve essere un errata corrige perché questo non è il doposole spray solare in colore con fattore di protezione 30 allora eccoli qua allora siccome io all'anno scorso avevo acquistato lo spray di protezione solare a protezione 20 mi sembra quello dell'anno scorso quest'anno ho acquistato un piccolo boccettino ah quest'anno ho già acquistato questo che ha fattore protezione 10 e lo spray corpo della linea azzurra che poi vi farò vedere allora per finire ci sono i solari per i bambini eccoli eccoli qui che sono tanto carini perché hanno hanno un packaging lungo e colorato molto carino e abbiamo allora doposole avosan kids gel doposole rinfrescante per bambini 150 ml ad un prezzo di 7,90 euro allora questo è carinissimo da morire perché l'anno scorso lo aveva comprato una mia cliente per suo figlio ed era spettacolare perché rilascia sul corpo i brillantini quindi prevedo che quest'anno invece del classico boccettino dopo sole vado a comprare questo perché sono molto curiosa di vederlo poi abbiamo formula multivitaminica avosan kids crema solare multivitaminica F50 resistente all'acqua a 7,90 euro ed è questa qua poi abbiamo una novità per il 2013 resistente all'acqua avosan kids crema solare per bambini F50 ultra resistente all'acqua con attivi di eccola qua è questa qua con i cavallucci marini guardate quanto sono carine e poi abbiamo spray turchese avosan kids spray solare per bambini con formula turchese al fattore di protezione 30 e anche questa qui è una novità per il 2013 questo penso sia quello che facevano vedere anche l'anno scorso alla televisione che quando si spruzza è azzurro così si vede dove si dà poi quando si spande comunque va via l'azzurro cioè è proprio una cosa per far divertire bambini tipo dicendo ah dai ci diamo la crema azzurra si si ok poi abbiamo allora per valorizzare l'abbronzatura eccoli qua abbiamo abbiamo l'autoabbronzante l'opzione autoabbronzante viso e corpo per carlagione chiara media con fragranza tropicale allora viene 6,90 euro 150 ml allora io questa crema qua anno scorso l'ho venduta tantissimo è piaciuta tantissimo addirittura addirittura quando ci sono state delle offerte anche a fine diciamo a fine stagione sono riuscita a venderla perché alle persone è piaciuta tantissimo poi abbiamo anche prolunga abbronzatura oreo spray bronzatura prolungata 150 ml a 6,90 euro ed eccola qua per finire abbiamo i nostri carissimi amici dopo sole allora dopo sole abbiamo burro per il corpo burro in ritivo dopo sole per il corpo 200 ml a un prezzo di 5,90 euro eccolo qui allora questo burro è spettacolare io penso che da quando io faccio avon e acquisto avon ce l'ho sempre trovato ne ho sempre fatto una scorta incredibile addirittura a fine stagione quando il prezzo diminuisce o lo mettono nelle offerte esclusive per noi presentatrici ne ho sempre fatto una scorta e devo dire la verità lo uso quasi tutto l'anno quindi attenzione a quel che vi dico quasi tutto l'anno poi abbiamo dopo sole con effetto scintillante 5,90 euro 150 ml che è questo qua questo qua scusate questo qua ecco poi abbiamo spray dopo sole lozione dopo sole rinfrescante con aloe vera questo è 400 ml questo è un bellissimo boccettone a 6,90 euro allora io l'anno scorso vi dico la verità l'avevo acquistato poi è successo che ho una mia cliente che non vedo spesso che mi aveva acquistato solari per nipoti bambini cugini parenti mi aveva preso una banca aveva acquistato la lozione questa qua spray che adesso vi vado a descrivere che dopo sole spray rinfrescante con vitamina C 150 ml a 5,90 euro quindi per finire il discorso questo qua con l'aloe che io mi ero acquistata per accontentare la cliente quindi per non stare a rivedere un'altra volta stando lontano da me che avevo dato la mia quindi la mia c'è è andata e io non l'ho provata poi quindi queste sono tutte le novità del sole del mare allora passiamo alle novità bijou sono brevi semplici e veloci sono queste qui bijou colorate e deliziose che si trovano a pagina 18-19 sono bellissimi guardate che bellezza di colori allora abbiamo anello color kick anello placato argento decorato con motivi circolari smaltati in rosa giallo verde acqua e viola e questo è possibile acquistare la misura 6 8 e 10 poi abbiamo orecchini color kick orecchini a goccia placati argento decorati con piestra pietra epossidica sono lunghi 39 cm hanno la chiusura monachella poi abbiamo la collanina placata argento appendente decorato lunghezza 4,5 e larghezza appendente 4,1 poi abbiamo il bracciale color kick bracciale rigido regolabile placato argento due sezioni diametro 6 cm larghezza 1 cm 9,90 allora qua anche ecco questa vi faccio vedere che qua in questo angolo l'angolo qua troviamo il posto per misurare gli anelli per esempio prendo il mio anello solito lo appoggio sopra vedo che misura è allora questo anello è una misura 10 per esempio però questo anello è una misura 10 ma a me mi entra tantissime cioè qui c'è un bello spazio vuoto quindi sicuramente mi servirà una 8 allora le novità della Avon Glow la linea di make up che penso tutti tutti adorano anzi vi devo dire la verità che appena ho messo le alte prima su in su con la mia pagina facebook le persone me le hanno già ordinata allora abbiamo pagina 21 eccolo allora abbiamo uno stick illuminante 3 in 1 Avon Glow 3 in 1 colore dorato e luminoso per labbra occhi e guance eccolo qua vedete è questo qua cioè lo possiamo utilizzare sia sulle palpebre sia sulla botta e sia sulle guance vi sono due aiuto due colori abbiamo lo shimmering bronze e il deep bronze allora lo shimmering bronze è questo qua per carno giugni chiare mentre il deep bronze è questo qua per carno giugni scure è 1,2 grammi ad un costo di 7,90 euro allora è questo qua è il primo qua che vi poi abbiamo effetto abbronzato gel effetto abbronzato per il viso sfuma il gel dalla consistenza leggera sul viso per un'immediata e delicata luminosità dorata gel abbronzante Avon Glow gel abbronzante dalla consistenza leggera e facile da sfumare offre un aspetto dorato in un istante sono 30 ml ed ha un prezzo di 7,90 euro ed è questo qua che vediamo qua allora sicuramente appena uscirà il catalogo mi acquisterò sia questo che questo cioè entrambi questo qui sicuramente acquisterò il shimmering bronze e poi acquisterò anche questo qui e vi farò una una review per descrivervi un po' questi prodotti poi andiamo avanti adorabile fresche tonalità pastella a pagina 23 troviamo un gloss labbra e la matita 2 in 1 allora il gloss labbra scintillante con fattore di protezione 15 meraviglioso gloss lucido che dona alle labbra una fantastica attrazione con formula non appiccicosa viene 6,90 euro allora qui abbiamo la tonalità golden bronze che è questa poi sun kiss bronze che è questa coral explosion che è questa e pink sunset sunset che è questa allora io sinceramente il gloss non lo acquisterò perché ne ho una miriade e li uso pochissimo però della von glow quelli che erano usciti nello scorso anno l'anno scorso diciamo sono piaciuti tantissimo ho avuto clienti che me lo richiedono oh my gosh della von glow tranquilla e tornano ecco poi questa novità questa matita 2 in 1 della von glow ci dice 2 in 1 matita è un bretto a von glow matita però che ha la consistenza cremosa che sfuma facilmente per una finitura in polvere brillante e di scusatemi di lunga durata resistente all'acqua allora qui abbiamo la sonorità beauty beach dove abbiamo un rosa ed un verde la sonorità coral crash crush dove c'è un marrone ed un corallo c'è un dito davanti eccola qua e poi la sonorità tropic orchidi orchid scusate orchidi non so dove l'ho letto che c'è un purple un viola e un bianco secondo me è molto carina io penso di acquistare la sonorità beauty beach perché è questa che è proprio questa qua che vediamo in copertina vedete è rosa e verde perché mi ispira molto allora il prezzo della matisse è 9 euro e 90 non mi ricordo se l'avevo detto comunque non ve l'ho detto poi andiamo avanti troviamo allora a pagina 24 troviamo la terra solare la terra solare scintillante che è già contenuta del pennello che devi semplicemente agitare e applicare che è questa qua abbiamo due tonalità che sono il light ed il medium allora questa era in catalogo anche l'anno scorso però sinceramente non l'ho provata non l'ho acquistata quindi non so aiutarvi nel fatto se sia buona se non sia buona non lo so non penso neanche di questa notte acquistarla perché io ho già mie blush ho già le mie terre l'avete sicuramente già vista negli altri miei video appunto poi a pagina 25 penso di aver quasi finito sì ho quasi finito però vi voglio far vedere altre piccole novità allora a pagina 25 abbiamo allora terra solare compatta lussuosa terra solare compatta non la splendida non la luminosità ha tutte le carragioni ed è questa qua vedete il packaging ha il suo specchietto la terra solare è con un sole dentro e abbiamo solanità allora per la finitura luminosa quindi per la pelle chiara un warm glow mentre per la pelle scura un deep glow eccole qua mentre per una finitura opaca abbiamo per la pelle chiara un light bronze per la pelle scura un medium riviera eccole qua poi abbiamo poi abbiamo ecco questo è un prodotto masso dell'Oven sono le cosiddette terre di perla solare perle scintillanti con effetto luminoso per una pelle che appare come abbronzata naturale sono 22 grammi hanno un costo di 9,90 euro e sono queste qua le coloratori sono per la pelle chiara scula per la pelle scura warm allora io queste terre solare qui le avevo acquistate quando non si chiamavano ancora Avunglo quando i prodotti non si chiamavano ancora Avunglo ma si chiamavano mi sembra sempre anche il make up Avonsun ora non mi ricordo bene devo dire che sono una cosa spettacolare ora sinceramente che stanno non li andò ad acquistare perché come già vi ho detto voglio comprare per rendere la bronzatura per rendere la bronzatura voglio comprare sia lo stick illuminante che la crema quindi io sicuramente ho un punto su questi però io vi dico che le perle solare sono buonissime anzi addirittura sono offerte perché il loro prezzo di catalogo è qui 19,95 e qui vengono 9,90 quindi secondo me allora buonissime allora altra novità per l'estate sono queste sono allora un'acqua profumata per il corpo stavo per dire porco scusatemi e un un'oeil de toilette che si chiamano riviera goddess frizzanti note di mandarino e succosa pesca con delicati accenti floreali muschio e paccioli non mi chiedete che cos'è perché ne lo so però il packaging è questo questo è il profumo questa è l'acqua solare è l'acqua si è l'acqua è l'acqua spray allora ad usare l'acqua qui sembrerebbe sembra fuono però poi io se non testo se non ho il campioncino non vi so aiutare benissimo quindi direi che di aspettare che mi arrivino il campioncino allora voglio andare avanti sfoglio un attimino il catalogo scusatemi se il video sarà un po' lungo ma ah novità del catalogo sono allora il profumo infinity infinite seduction per lei dove ci dice che allora acquistando le ditte infinity seduction per lei potrai ordinare la lozione corpo o lo spray da borsetta solo un euro allora il profumo la novità del profumo il costo del profumo in offerta è 16,50 euro qui c'è la prova adesso io la provo per voi non sento niente non sento niente ragazzi allora io non lo sento ve lo descrivo perché non riesco a sentire niente prova l'inegabile passione delle sensuali note di pepe nero e gardelia perfettamente uniti e seducenti accordi di cuoio e vanilla allora a me sembra buono però sinceramente sento poco perché il profumo addosso ha già strusciato l'altro quindi non mi so molto aiutare poi abbiamo guardate che carino il faraway bella ascoltatissimo i profumi rare gold che sono hanno un 45% di sconto compreso il nuovo rare gold diamonds ecco poi abbiamo l'infinity seduction per lui e ci dice prova questa irresistibile attrazione con una sensuale miscela di legna aromatici e magnetica vaniglia con accenti guaiati scusatemi mi sono interrotta ma c'è un errore qui di scrittura qui il profumo in uscita da uomo viene 13 euro e 95 ci dice che acquistando il protumo possiamo avere stazionalmente un euro o un balsamo dopo barba o un odorante antisudore a sfera ecco l'uomo lo sento bene ed è buonissimo poi abbiamo un'altra novità da uomo che è a pagina 53 questo individuo è blue free e mi dice fresco magnetico energizzante un energizzante cocktail di note egrumate che si unisce a donare frescante miscela di esclusivi accenti legnosi e frattati in uscita il profumo viene 10 euro e 90 lo sto svegliando un pochino scusate questo è quasi allora mi sembra che le novità siano finite mi presento mi presento le novità ah sì la novità allora un'altra novità spettacolare si trova a pagina 121 è la BB cream della linea Anuvital con allora eccola qua allora questa BB cream ha un prezzo di 11,90 euro e mi dice non solo una BB cream ma anche un trattamento antietà allora la BB cream la linea Anuvital è in casa alle ragazze dai 20 ai 30 anni quindi insomma non è che ci sia proprio un trattamento antietà chissà qua chissà come però c'è allora ci dice d'attrazione colore protezione F20 trattamento antietà tutto in un solo prodotto con Proalgae Complex aiuta a nascondere le imperfezioni in un giorno contribuisce a restituire la pelle un aspetto più giovane in due settimane la texture della pelle appare da impredibilmente revigata io per 11 anni 90 la proverò sicuramente allora io sto spogliando nel catalogo ma vi voglio far vedere le novità quelle un po' più cortose comunque anche perché poi troverete questa è bellissima questa è bellissima guardate guardate questa è bellissima allora questa è borsa a tracolla pitch bar borsa a forma rettangolare con tracolla lunga 136 cm quindi quasi 1,50 m la tracolla rimuovibile consente utilizzare la borca anche come pochette misure 17x26 pubicci esterno poliastro interno disponibile in bianco azzurro e nero a me mi sembra tanto carino nero azzurro e bianco allora anche questa sarà il mio prossimo acquisto ma bisogna acquistarla non so se è o in azzurro o in bianco tanto più l'azzurro però devo ancora decidere vi farò sapere vi farò sapere poi per finire allora per finire la novità sono i prodotti da uomo allora da uomo non è che sono le novità è stato cambiato il packaging che adesso è così vi ricordate la linea for men ecco adesso il nuovo packaging è questo e troviamo allora balsamo lenitivo dopo barba a 3,90 euro cavolo questa è super offerta costa 10,50 euro che costa 3,90 poi abbiamo gel da barba cremoso gel da barba d'azione lenitiva deficiente per il viso poi abbiamo detergente 3,1 detergente energizzante deodorante 24 ore e un idratante a lungo ecco qua faccio la mano scusa poi per finire per finire la novità la novità la novità che secondo me va acquistata sono questo che è il nuovo eyeliner della color trend allora è un eyeliner fatto tipo una penna allora vediamo le descrizioni allora una matita due look delinea tracciola la sottile lungo l'attaccatura delle ciglia superiori che diventa più marcata verso l'angolo esterno dell'occhio poi ci dice sfuma leggermente la linea verso l'alto e verso l'esterno riempi segui le istruzioni riportate sopra quindi impugna la matita lateralmente e applicato con movimento in avanti e indietro per coprire la palpeba e poi ci dice concludi delinea al di sotto degli occhi quindi termina applicando il mascara i colori in uscita sono black cut eyes che è un nero huntress green che è un verde exotic violet che è un viola rich in gold che è proprio oro smoldering silver che è argento e styling blue che è l'azzurro in uscita viene 3,95 anche questa qui e questo qua questo qui sicuramente io lo andrò a acquistare e penso che acquistare nel colore rich in gold perché mi piace tantissimo e mi piace anche lo styling blue però lo styling blue come avete visto nel mio blog ho l'ombretto della essenzial quindi quello lì siccome è da bagnato mi fa da eyeliner con il pennellino è spettacolare quindi non so se andrò a acquistare o no però sicuramente il rich in gold che è l'oro lo andrò a acquistare allora io spero che questo video vi sia piaciuto è stato un po' lungo lo so ma vi dovevo descrivere queste meraviglie queste meraviglie il catalogo è questo spero di essere stata d'aiuto sia alle presentatrici quindi i miei colleghi che alle clienti vi ricordo che potete visitare il mio blog che è beauty secret nel che metterò sicuramente il link nell'info box e vi ricordo che potete visitare anche la mia pagina la mia pagina facebook che è avon francesca pisa trattino pistoia però vi ricordo che nella pagina troverete oltre alle novità tanti stuzzichini che vi potete godere quindi leggete la mia pagina e godervela un bacione a tutti e alla prossima prossima video ciao ciao